L'esperienza della raccolta delle firme per la presidenza del parco devo dire che mi ha colto di sorpresa nel senso che l'ho appresa da Facebook perché una serie di giovanissimi miei amici che credono forse esageratamente in me hanno preso l'iniziativa per incoraggiarmi a scendere in campo sulle questioni del parco io ringrazio il gruppo consigliare di Vallo della Lucania che è diventato capofila di questa cosa a questo punto diciamo che la cosa mi ha obbligato a una riflessione più approfondita e seria sulle grandi questioni di fondo del parco perché avevamo tutti messo in questa cosa grandi speranze e invece ci troviamo di fronte a una parziale delusione diciamo qualcuno dice addirittura totale ora io penso invece che è una grande opportunità per il territorio lo è stata già perché comunque il Cilento non era conosciuto io ho fatto l'esperienza nelle fiere la prima volta che esordimmo nel 1993 con un'ostruzione del parco nazionale del Cilento la gente che entrava nel nostro stand ad Alba in Piemonte dicevano ah ma voi siete dell'Abruzzo ah ma voi siete del Salento quindi il parco ha dato una identità a questo territorio perché diciamo viene da una storia in cui il territorio era diviso da una serie di corridoi ecologici legati ai fiumi ai nomi dei fiumi quindi la valle del Mingardo la valle del Bussento la valle della Lento la valle del Calore e così via e oggi invece diciamo che sta in una cartografia unica anche se diciamo tormentata perché ha tre nomi Cilento, Diano e Alburni ora quali sono le cose che secondo me occorre affrontare di petto la questione dello spopolamento che fa il paio con la questione dell'intasamento della costa almeno in alcuni mesi all'anno in effetti noi dobbiamo capire che la scienza moderna non studia più le cose ma le relazioni fra le cose questo significa quindi che noi dobbiamo a tutti i costi cercare di scoprire queste relazioni cioè se i fiumi non portano la terra al mare le spiagge arretrano il parco si deve cominciare a occupare del suolo della vita del suolo che oggi sta perdendo irrimediabilmente colpi perché è esposta all'erosione e perché i suoli nostri non hanno più sostanza organica in molti casi e quindi impediscono anche la fertilità in campo agricolo si deve occupare di acqua perché abbiamo troppo a lungo ignorato che abbiamo un miliardo di metri cubi di acqua ma ce ne servono 20 milioni e nel piano del parco non è proprio menzionato tutto questo quindi si deve stabilizzare proprio nella forma di una conoscenza scientifica del territorio ovviamente se io mi vado a occupare di suolo non posso non pensare che noi abbiamo da un lato 50 montagne al di sopra dei mille metri e questo non si trova in nessuna indicazione del parco 50 è un patrimonio enorme che ci facciamo? e che ci facciamo d'altro canto con un suolo che si erode che è quello delle spiagge abbiamo tentato una serie di interventi non sono andati a buon fine cambiamo questa cosa oppure no? cioè voglio dire la mia è un'iniziativa di carattere politico-culturale sottolineo molto il culturale cioè di un ampliamento di un approfondimento della cultura diciamo il parco deve essere un luogo ad alta intensità di conoscenza a cui collaborano scuole, università centri culturali vari che debbano avere un loro ruolo importante cioè se noi non sappiamo quanti litri secondo di acqua abbiamo noi non possiamo gestire il territorio così anche con le piante quali sono le piante che oggi ci migliorano la coltivazione? in passato si conosceva quali sono le piante che impediscono l'erosione? in passato si conosceva quali sono le piante che noi dobbiamo coltivare oggi e come migliorare la resa di tutto questo grande patrimonio che ammonta per esempio a più di 2 milioni di piante olivicole è un grande tema no? voglio dire perché noi siamo un parco a vocazione agricola e turistica si è sempre detto ma questo deve diventare struttura nel parco cioè dove sono gli esperti di agricoltura organica rigenerativa sapendo che noi rischiamo di perdere tutti i contributi dell'Unione Europea proprio perché l'Unione Europea sta cercando adesso di incentivare l'agricoltura rigenerativa cioè quella che non impoverisce il terreno ma lo rigenera e lo arricchisce quindi noi dobbiamo passare su un altro fronte proprio del lavoro e delle conoscenze è un'impresa enorme che richiede anni di lavoro impegni voglio dire che certamente non può essere appoggiata solo sulle mie forze quindi il suolo l'acqua le piante gli animali e allora gli animali la prima cosa che ci viene in mente sono i cinghiali esistono delle soluzioni per migliorare la cosa di un problema che si è lasciato aggravare per troppo tempo soluzioni parlo perché a me piace non lamentarmi ma di affrontare i problemi pensando che hanno perlomeno cinque soluzioni io l'ho insegnato a scuola questo concetto che significa questo? significa che il numero dei selettori adeguato funzionano tutti dobbiamo nominare dei supplenti che se un selettore sta male subentrano a lui dobbiamo ampliarlo questo numero prima questione perché il problema è enorme non ne parlo per sentito dire perché è nei miei terreni che sono abbastanza ricchi di sostanza organica che i cinghiali si divorano tutto i selettori abbiamo fatto un incontro dove è emerso che mancavano i veterinari per seguire questa cosa ma poi i macelli cioè noi non possiamo pensare di voler vivere in un territorio dove per ammazzare una capra che vale cinquanta euro devi andare affrontare un viaggio dalla costa del Cilento ad Attena a Lucana per spenderne cinquecento di euro tra viaggio di andata viaggio di ritorno e macellazione ma questo non riguarda solo gli eventuali cinghiali uccisi dai selettori ma riguarda l'intero settore della zootecnia e l'agricoltura senza la zootecnia e senza le leguminose è impossibile mettiamoceli in testa cioè l'azoto mineralizza i terreni li impoverisce li indurisce e poi dopo non dopo ma gli animali ci sono le persone cioè ci sono gli anziani che hanno bisogno di servizi sanitari per cui il parco deve rappresentare queste esigenze cioè avere un'ambulanza ogni quattro o cinque comuni almeno perché l'ambulanza non può arrivare perché si spopola il territorio perché uno ha paura di morire insomma ma l'ambulanza non può arrivare dopo un'ora due ore quando uno si sente male e insieme a questo il sistema dei trasporti che può essere migliorato in tutti i modi possibili con delle soluzioni facilissime che vanno dalla riorganizzazione degli incentivi esistenti che vanno dal rinnovo dei mezzi che vanno dalla stimolazione verso i privati però per questo bisogna stare insieme ecco il parco ha questa funzione di farci stare insieme e quindi insieme noi possiamo trovare le soluzioni però vedete insieme che significa i sindaci io sono un sindaco noi stiamo insieme nel senso cioè che una volta quando era nato il parco si sono formate le commissioni di lavoro e invece adesso i sindaci i sindaci vivono da soli ognuno il proprio dramma il proprio problema ma se formiamo delle commissioni di lavoro noi possiamo dare un contributo come sindaci alle cose alle cose del parco per cui se dividiamo per esempio 80 in sei commissioni abbiamo la forza propositiva per per approfondire innanzitutto i problemi perché i problemi vanno studiati e poi per mandarli avanti ma le persone i giovani i giovani nella nostra zona non partecipano alle grandi rivoluzioni culturali del novecento parla dell'informatica l'ho detto troppe volte questa cosa ed è caduta sempre in vuoto parlo dei settori dell'energia dell'energia alternativa cioè voglio dire l'ultima volta che è stato presentato un piano per l'energia risale al momento in cui era vivo Angelo Bassallo di 52 milioni sparito quel piano ma qual è il nostro fabbisogno energetico? e con quali fondi alternative va alimentato? e come facciamo per proporci degli obiettivi su questa cosa per rendere per risparmiare innanzitutto per non inquinare innanzitutto e per rendere competitivo il territorio poi che è un'altra cosa importante e nelle commissioni edilizie ci sono gli esperti del risparmio energetico è un grosso problema vanno formati vanno formati gli agronomi dell'agricoltura organica rigenerativa cioè la scuola non può essere rispetto a questo marginale no? non può essere non può essere marginale l'altra questione riguarda per esempio le aree dell'artigianato ma abbiamo perso un'occasione storica quando sono arrivati gli emigranti non gli abbiamo dato un posto dove poter sviluppare delle botteghe artigiane per cui sono spariti cioè praticamente che cosa è successo? la società dei consumi ci ha detto di non fare ma di comprare questo ha distrutto ha distrutto le nostre comunità perché se tu fai il pane e lo regali a un vicino attivi gli scambi attivi la vita di comunità e se un altro fa le porte o le finestre e così via attivi la vita di comunità ma se questo non succede prevale solo la ricerca del danaro non dello scambio tra i prodotti ma del danaro e quindi finiscono i legami sociali si indeboliscono le comunità si spopolano si spopolano i centri cioè voglio dire noi abbiamo bisogno di e peggio ancora per il turismo cioè nell'interno non esistono gli alberghi e neanche tanto sulla costa cioè ci siamo affidati alle seconde case che è il settore più povero ma la cosa più grave secondo me è che abbiamo scambiato il marketing per la pubblicità che sono due cose diverse cioè abbiamo aderito a una visione cioè come per tutte le cose che ho menzionato prima a visioni antiscientifiche cioè che significa che il marketing poggia sul prodotto significa che noi dobbiamo fare il censimento delle strutture ma anche delle montagne dei fiumi delle cose che si debbono visitare e poi dobbiamo vedere come fare per migliorare tutto questo quindi prima viene il prodotto poi viene il prezzo poi viene la catena di distribuzione e poi alla fine tu lavori su quella catena di distribuzione con la pubblicità il parco ha buttato soldi in un mare cioè praticamente ha tentato di uccidere un uccello sparando in cielo ma non è mai riuscito questo sport cioè tu non puoi andare in una fiera a fare la pubblicità tu devi andare a colpire specifici sentimenti di mercato quindi e i segmenti più sono stretti più sono i giocatori di pallone tanto per dire o piuttosto che gli escursionisti o piuttosto che i ciclisti ma non è che possiamo mettere su una bicicletta uno che esagira per il parco e abbiamo fatto la pubblicità ma non è cioè ma voglio dire questa operazione le può fare chi non conosce minimamente il sistema della pubblicità io lo dico perché nella mia esperienza di commercializzatore di olio poverissima insomma ma voglio dire noi abbiamo diviso il mercato in 12 segmenti e su quelli poi abbiamo cominciato ad operare su alcuni abbiamo operato di più altri di meno perché non erano così non erano così profittevoli ma l'altra questione e i rifiuti da Einstein in poi i rifiuti non sono rifiuti la materia contiene energia noi dobbiamo trasformare i rifiuti in energie abbiamo speso un lunghissimo tempo nel dibattito vogliamo il compostaggio non lo vogliamo il compostaggio è una cosa seria ma oggi si può fare con le compostiere di comunità o come abbiamo fatto noi calando il prezzo dei tributi abbassando il prezzo dei tributi e incentivando le persone a portare l'umido in campagna come si è sempre fatto in tutta la storia visto che i terreni hanno bisogno di sostanza organica è certo che però dobbiamo farci pure gli animali nei piccoli paesi assolutamente ma non possiamo pensare che andiamo a comprare le uova si possono fare i pollai mobili e come si possono fare i macelli mobili e come si possono fare in montagna per riospitare i pastori gli stazzi mobili come hanno fatto in tanti posti la sanità ma scusate ma tutta la sanità legata allo yoga alla medicina alternativa perché non decolla in un parco ve lo voglio capire cioè in Toscana oramai abbiamo più di cento ambulatori aperti di medicina alternativa e cominciamo almeno con uno visto che abbiamo competenze esperienze e le abbiamo sulle piante e le abbiamo sull'acqua perché facciamo circolare la vita le competenze le esperienze questa visione povera culturalmente povera molto povera culturalmente e insieme solitaria così no si deve sbloccare la mia ecco questo ci tengo a dire è una battaglia è una battaglia culturale ma la battaglia comincia dal fatto che un sindaco deve salire su un bullman insieme agli altri sindaci e farsi un giro del parco perché io invito le persone quando parlano di parco mettiamoci su una macchina vediamo in che condizione è il suolo vediamo le spiagge che fine stanno facendo perché sono scomparsi gli animali sono scomparsi cioè a questo punto perseguitiamo un pastore perché perché non alza più dove pascolare e teniamo i cigliali sulla montagna ma a me è capitata voglio dire questa questa esperienza che era bellissima perché i pastori possono pulire possono pulire i boschi ho fatto con il parco un'esperienza bellissima e ringrazio ancora quelli che l'hanno resa possibile quella del fuoco prescritto l'ho presentata all'ex ministro dell'ambiente Pecoraro Scania che ha detto ma questa è una cosa che non era prevista dalla mia legge dice beh dobbiamo cambiare la legge perché voglio dire abbiamo fatto fare con la nostra iniziativa anche la legge su poco prescritta in campagna però non va avanti però i risultati io vorrei che qualcuno venisse a vedere dove il parco ha fatto questo sono strepitosi meravigliosi sia per gli incendi sia sia perché è rinata la macchia sia perché ma insomma si è regenerato il terreno e sia perché il territorio è stato sempre diviso in quattro grandi componenti da una parte c'era il paese dall'altra c'era il posto dove coltivare dall'altra c'era il bosco e c'era il posto dove c'era il pascolo il pascolo si gestiva con un fuoco prescritto chiamiamolo così scientificamente invernale perché non fa danno e rigenere la natura e non si fa più da nessuna parte ma dopo che il parco ha attivato un progetto meraviglioso con esperienze altrettanto valide quindi voglio dire in sintesi noi dobbiamo da una parte difendere la natura i valori culturali del passato che abbiamo e beh a me è capitato di 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 recuperare non solo l'olivicoltura ma anche con il trattore radiocomandato e e però dall'altra modernizzare il pensiero non si possono più fare errori di confondere il marketing con la pubblicità o di fare errori strategici in agricoltura che impoveriscono i terreni e perché sennò vanno indietro sia l'agricoltura che il turismo per non parlare dei beni culturali noi non abbiamo un sito internet dove ci sono tutti gli scavi archeologici del parco io ho provato a fare tutti questi elenchi vedete ho trovato 22 primati che il parco ha a livello nazionale ed europeo e mondiale sono sul sito della cooperativa nuovo cilento chi li vuole vedere ma ma voglio dire perché non possono stare anche sul sito di un parco non l'ho capito cioè voglio dire come intendiamo cioè se abbiamo il tempio meglio conservato al mondo il tempio greco o la pittura greco italica meglio conservata al mondo se abbiamo cavità carsiche stupende da Pertosa a Castelcivita Amorigerati che sono uniche al mondo e che voglio dire se abbiamo il paleolitico più importante d'Europa nel parco e non abbiamo ancora un museo e quando cominciamo voglio dire io fra l'altro non ho molti anni da vivere ma vorrei vedere cominciare queste cose la mia battaglia culturale è questa cioè abbiamo un territorio con tredici presidi slow food con tutte le spiagge che bandiera blu con ma abbiamo battisteri nel Vallo di Diano che sono unici in Italia insomma abbiamo la montagna più alta della Campania e insieme a 50 vette per esempio e perché nel mese di agosto non ripopoliamo tutte queste vette con delle iniziative che stanno tra l'escursionistica e il culturale ma già il fatto di andare a proporre 50 montagne nel mondo ma scusate ma io sono il primo essere umano che ha contato queste montagne e ancora nessuno se ne importa ma che ma dove siamo arrivati insomma e quante spiagge abbiamo bellissime le vogliamo allineare scientificamente tutte cioè oppure no oppure andiamo a ripetere gli stessi errori di mettere le pietre a mare che poi si scassa tutte eccetera eccetera per cui abbiamo pensato che vogliamo fare il turismo senza le spiagge non ho capito questa cosa oppure se abbiamo centri storici vuoti ma vogliamo andare a fare un incontro con le banche per vedere come sosteniamo gli investimenti del 110% ma oppure come facciamo realizzare la fibra ottica in tutti i comuni in breve tempo perché molti ce l'hanno e molti non ce l'hanno cioè possiamo andare noi sindaci al ministero a chiedere questa cosa perché in questo momento è in atto un processo di ripopolamento dopo covid però ci vogliono i servizi e tutti dicono ci vogliono i servizi e ho capito ma che ci vuole per fare questo se noi non pigliamo un'iniziativa ecco questa è la mia battaglia vi ho detto per titoli ma poi se vogliamo parlare di agricoltura organica rigenerativa o di turismo o di beni culturali ma c'è da parlare per ore da approfondire per ore questi temi ed è giusto che nel parco ci siano le figure adatte a gestire questi settori strategici ci parli strutturata la struttura noi abbiamo una sola cosa che funziona è la cosa delle licenze edilizie ma insomma il parco è un'altra cosa ed è un'opportunità una ricchezza ma purché noi dobbiamo cambiare completamente registro questo è il punto io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestato io intendo questa cosa questa iniziativa delle firme come una battaglia per poter comunicare le cose che per me contano e che contano per il gruppo degli amici che mi hanno lanciato in questa impresa con i capelli bianchi e sperando di poter dare come ho sempre fatto anche senza ricoprire ruoli un contributo al parco perché noi il parco l'abbiamo sempre pubblicizzato anche quando non ne facevamo parte insomma perché e continuerà così voglio dire al di là di quello che può succedere perché io vi devo dire la sincera verità non mi sono mai troppo preoccupato di fare carriera di avere delle nomine di avere delle cose per cui anche stavolta prendo la cosa con questo spirito che è quello di stare insieme agli altri per fare delle cose o anche perché per litigare con gli altri perché io ho un caratterino un poco non troppo docile quando le cose quando le cose si mettono male ma io l'unica cosa che vorrei se le cose si mettono male abbiamo la possibilità di difretterci sopra teniamo una sede dove farlo questo è il punto e quindi di riorganizzare la nostra vita è la nostra attività passiamoci la mano per la coscienza voglio dire e quindi un nuovo protagonista delle persone delle associazioni culturali dei coltivatori degli operatori turistici alcuni dei quali hanno delle esperienze fantastiche e però potrebbero dire come si fa a fare agricoltura o turismo in un certo modo però bisogna trovare un luogo dove questo dove c'è uno scambio continuo delle informazioni culturali e invece qua si è bloccato proprio il sistema dello scambio delle informazioni culturali sul territorio e il parco deve essere questo volano vi ringrazio